Al giorno del giudizio si separa La nuova religione Ci sarebbe molto da dire in merito a ciò che si intende effettivamente per politeismo e monoteismo Dato che non sempre quest'ultimo può essere considerato più evoluto del primo E non sempre le due concezioni sono così diverse da come potrebbe sembrare Pensiamo ad esempio all'adorazione dei santi nella tradizione cristiana Ma prima di addentrarci in questo tema controverso Buongiorno o buonasera a tutti e ben ritrovati al nuovo podcast dell'Associazione Perang Associazione culturale senza fini di lucro Nata per la divulgazione di studi ed insegnamenti delle più antiche tradizioni iniziatiche Lasciando per un attimo in disparte l'approfondimento su ciò che si intende per politeismo e monoteismo L'autore del libro La religione degli etruschi, Giovanni Feo Delinea un interessante percorso religioso dell'essere umano Indicando proprio nel periodo attuale la necessità di compiere un ulteriore ampliamento di coscienza Una vera e propria rivoluzione religiosa Feo scrisse Gli studiosi di storia delle religioni si trovano generalmente concordi nel ritenere che nella società umane Il concetto di religione sia mutato nelle varie ere storiche Passando attraverso tre principali fasi La prima, definita feticista, sarebbe la più antica da riferirsi ai primi Homo sapiens Quei nostri progenitori avrebbero percepito la presenza di un potere superiore e non umano Nei fenomeni naturali che toccavano in modo significativo la loro coscienza Senza però riuscire a definire i limiti di tali esperienze Giunsero così a sviluppare il culto di particolari oggetti I fetici appunto Come pietre, ossa, conchiglie E quant'altro che ritenevano impregnato di quell'ineffabile potere In una seconda fase vennero scoperti e utilizzati dei sistemi simbolici Utili ad inquadrare quel potere in un insieme codificato e ben preciso Prese allora forma una concezione di tipo politeistico Basata sull'idea di un panteon di divinità Governate da una suprema diade divina Una grande dea creatrice E al suo fianco il dio della fertilità Nel panteon governato dalla diade Altre coppie di dei esprimevano i vari e diversificati aspetti del divino Aspetti inferi, celesti, aspetti marziali, aspetti generativi E ogni altro aspetto che interessava il comune vivere La terza fase è quella relativa alla nascita delle religioni monoteistiche Dove emerse la concezione dell'unicità del divino Il dio unico, padre di ogni creazione Il limite delle religioni monoteistiche È nel riconoscere l'unicità di un solo dio E al tempo stesso non riconoscere che quel dio È lo stesso degli altri credi Dove la medesima credenza è solo formalmente diversa Il passaggio ulteriore che porterà ad una quarta fase evolutiva della coscienza Consiste nel riuscire a trascendere il senso apparente delle cose Di forme, simboli e nomi Per giungere ad una comprensione più profonda E più autentica della realtà Forse allora, senza di certo rinnegare la funzione svolta fino ad oggi Dalle differenti religioni e scuole spirituali Ma anzi con gratitudine nei loro confronti Per averci accompagnato e sostenuto nella nostra ricerca È arrivato il momento di riconoscere a ognuna di essere Veramente e profondamente Come dita che indicano la luna E quindi forse È arrivato il momento in cui siamo chiamati a compiere l'ulteriore sforzo Di orientarci direttamente verso la luna Se così fosse Sarebbe ora possibile spogliarci di tutti i concetti Per adorare realmente il dio che tanto cerchiamo In spirito e verità E non solo a parole E magari scoprire che è sempre stato là Ad attendere la nostra crescita Per potersi unire a noi Bene, con quest'ultimo stimolo Possiamo salutarci e riflettere ognuno sulla propria luna Ti ricordiamo che l'intero testo di questo podcast Insieme alla bibliografia di riferimento Sono presenti sul link al nostro blog Indicato in descrizione In descrizione troverai inoltre il link al video Girato dall'Associazione Per Anche Sul compianto studioso ed amico Giovanni Feo Sempre sul nostro blog È possibile scaricare documenti ed articoli di approfondimento Oppure contattarci Per ricevere aggiornamenti sulle nostre pubblicazioni ed eventi Iscriviti su www.associazioneperank.com E su questo canale per i podcast Tutti i nostri contenuti ed eventi sono E saranno sempre gratuiti Facci sapere se hai trovato utile questo episodio Con un like o nei commenti E se pensi possa esserlo anche ad altri Aiutaci a diffonderlo condividendolo A presto All'iscrizione e alla prossima All'iscrizione e alla prossima Grazie a tutti.